Allora adesso, dopo aver messo tutta la cera intorno all'innesto che abbiamo fatto, agli spacchi e tagli che abbiamo fatto, ci premuriamo di legare l'innesto più che altro per far sì che non si spostino i rametti che abbiamo inserito, che il vento oppure gli eventuali uccellini non li vadano a spostare, almeno per qualche tempo, dopodiché una volta che l'innesto ha tecchito diventa una saldatura come quella che avviene nelle fratture osse, per cui non ci sarà più problema di niente e la pianta verrà su fortissima e darà i suoi frutti. Bene, fatto questo facciamo qualche nodo e fra qualche mese però ci dovremmo ricordare di tagliare questa legatura qua in modo che la pianta possa ingrandirsi a suo piacimento. Vai!